Un grande campione per una grande giornata, quali sono i valori che volete trasmettere con questa bella iniziativa? Principalmente con Banca Generale Un Campione per Amico vogliamo farli divertire una mattinata di sport, facendoli giocare con lo sport, visto che purtroppo nelle scuole ne praticano poco, è lo stimolo per farli fare magari qualcosa, anche poi porre fuori dall'orario scolastico, per il loro bene, perché lo sport si è fatto bene, è una grande opportunità per i ragazzi di crescere meglio, il tipico è anche un po' quello.